La mia situazione era che i miei denti erano molto consumati, lo smalto era ormai praticamente inesistente, erano molto sensibili, le gengive erano molto retratte. Sono venuta in questo studio e mi ha colpito subito l'estrema cortesia, la gentilezza e la professionalità di tutti. Mi è stato fatto appunto un preventivo, un piano di lavoro e ho dovuto rifare sia l'arcata superiore che quella inferiore. Il percorso è stato anche abbastanza veloce, devo dire, e adesso sono soddisfatta dal punto di vista estetico, ho sicuramente recuperato un bel sorriso, i denti sono molto naturali, il risultato è molto naturale, non sembrano artificiali, mi ritrovo praticamente la dentatura di diversi anni fa. Grazie. 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 Grazie.